Ed è mia zia Marta! Cara Fiona, aiuto! Dopo 48 anni vissuti a Parigi, ora vogliono mandarmi all'ospizio. Ridicolo! Ho solo 88 anni. Cerco mia zia Marta! Una foto! Ok! Ehi! Ehi, questa è casa mia! Buonasera! La smetta di inseguirmi! Io la amo! Marta! Ha mica visto Marta per casa? Sì, l'ho vista. 27 anni fa. Abbiamo fatto l'amore in barca. Marta! Oh mio Dio! Oh! 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 Oh... Oh! Oh! Grazie.